Prisca mi dice perché la legge di attrazione e le intenzioni con me hanno funzionato subito? Prisca, con te hanno funzionato subito? Eh ma così dovrebbe essere, se le intenzioni sono in linea, non sono egoiche, ma sono intenzioni in linea con la tua anima, col tuo percorso, col tuo path, le cose accadono subito. L'ho detto, oggi, ultimamente l'universo è stato un po' più lento, ci ha messo 3-4 giorni a darmi una risposta a una determinata richiesta, si vede che era molto complicato, effettivamente era molto complicato, però devo dire che, devo dire, grazie all'universo, io sono al suo servizio, però anche lui quando ci si mette, trova, insomma, ci ha messo un po' più di tempo, però a quanto pare quello che ha mandato, la persona che ha mandato, e il risultato che ha mandato, sembra essere un'ottima risposta alle intenzioni.